Mettiamo il tempo che ci va per fare questo saluto e se incontriamo qualcuno lo risalutiamo, non è un problema. Non è il tuo saluto ma è il nostro saluto. Non è il tuo saluto, è il nostro saluto. C'è allora, ormai queste tavole le hai guardate un mese, sai un interstizio. Bene, adesso pizze. No, no, solo qua. No, chiaro. Vai. E abbiamo una per uno. Chiara, tu hai mai? Non muore, non è mai morto nessuno. No, 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 no. S oppure. No, 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 no. Nessuno si accarezzi la guaccia. Non hai mai fatto nessuno per prenderla a caccia. Insieme, insieme. Insieme lo si dà. Ecco, no. Oh, oh, non faccio lavorare. Abbiamo capito, abbiamo capito. Insieme. Insieme. Ok. Insieme lo si dà. Ok, incontriamo e facciamo un bel vinchino. Prima ci diamo questa pizza, Mauro, vai. Vinchino. Vinchino. No, la mia pizza te ha salutato. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Che proprio te la sai salutato, la mia pizza, eh. Lo spazio vale sempre, non fate cerchi. Trova il rumore, spazio gli occhi, saluto. Grazie. Scegliete un compagno, mettetevi di fronte l'uno all'altro, riempite tutto lo spazio, senza indecisione, pensate alla transizione, come sto andando verso il compagno. Bene, se c'è qualcuno sbagliato, si aggiunga un bambino. La testa è pesante di ferro, prova di roboticità. Destra, sinistra, centro. La testa è di ferro, va verso avanti. Torno al centro. Sentite il suono di ferro e cercate di essere precisi come il suono. Il gomito destro, sinistro, bacino. Ritorno al centro e sciolgo, meccanico. Ascoltate bene. Ritorno al centro e sciolgo, meccanico vuol dire che se avevate i gomiti alti, meccanicamente li portate giù. Precisi e attenti. Piede destro, meccanico sollevato. Torno giù. Piego il busto in avanti, meccanico. Bene, trovate un aggiustamento sul compagno. Ginocchio destro verso l'esterno, meccanico con piedi a terra. Bene, busto, dritto, rigido, che va a piegarsi sul lato destro. Sciolgo meccanico al centro. Fate tutti i passaggi che vi servono meccanicamente per chi non è tornato al centro. Daniele, benissimo. Le braccia di ferro. Duchi, Natalia, Marcellino, le braccia di ferro. Vengo a fare la prova. Vedete? Vedete? Vengo a fare la prova. Cambiamo il livello. Piegate ginocchia meccanicamente. Ritorno su. Più veloce. Bene. Cambio di livello e metto un braccio laterale. State attenti. Tornate al centro. Cambio di livello e metto un braccio laterale. Cambio di livello e metto un braccio laterale. State attenti. Cambio di livello e metto un braccio laterale. Benissimo. Quanti minuti ci sono riusciti. Sciogliamoci. Cambio di livello vuol dire che piego le ginocchia e vado più in basso. Per chi non ci è riuscito, di nuovo l'ultima volta. Martina, braccia di ferro. Faraoni! Ti vedo! Elena, drizza! Agnoscia, la pancia dentro! Piede dentro o piede sinistro. Sollevati diretto o piede sinistro. Ora facciamo una composizione. Gomiti, ginocchia e testa. Risolvete con i datoni. Gomiti, ginocchia e testa tutto nel canico. Sciogliamo sempre i passaggi. Il gesto che fate nella catena dell'ultima scena, il vostro. Facciamolo in quattro tempi. Voi sapete qual è. E create uno spazio consolo a quello del compagno. in quattro tempi meccanici. Sciogliamo in quattro tempi. Tornate, tornate. Sciogliamo in quattro tempi meccanici. Sapete voi. Le mani agli oscia. Le mani sono morbide. Ora andiamo più veloce. Quattro tempi, ma più di velocità. Io li sbatto più veloci. Preparate mentalmente. Quattro ad andare e quattro a tornare. Due tempi meccanici. Scegliete quali serve del movimento. Deve essere risolto in due tempi. Due ad andare e due a tornare. Manca il cambio di livello. Vedo molte braccia, pochissime gambe e non vedo nessuno che cambia di livello. Cercate nel vostro movimento un passaggio in cui o siete di lato o siete più in basso ma dovete cambiare qualcosa adesso che non è interessante da vedere così. È troppo lineare. Quattro movimenti vi do per cambiare. Il vostro ma con qualcosa di migliorato. Pronti? Ferro? Ma le osce le mani. Marcellino! Mauro! Bene, meglio. Sciogliamo in quattro. Ora lo facciamo più veloce. In quattro ma più veloce. Cambiate il livello. Per chi non l'ha ancora fatto. Perché qualcuno non l'ha fatto. Ora io continuo a battere incessantemente e vi guardo per vedere come funziona. Quindi voi state sempre a tempo delle battute. Musica ai mani. Più due. Quando non c'è musica è stop. Ok? Chiaro piano, meccanicamente camminate e allargate lo spazio con il compagno. Come a mettervi in relazione anche con altri gruppi. Avete quattro battute per farlo. E ora di nuovo movimento il vostro della catena. Precisi con cambi di livello. Esatto. Per chi non l'ha ancora fatto, bisogna cambiare il livello. Per chi non può piegare le ginocchia che ha un problema, abbassa il busto in modo che il corpo cambia, non è in verticale. L'ultima volta. Luisa, fallo, adesso. Guardami. Vai, ritorna. Bertha, più dritta. Ancora adesso abbiamo di più lo spazio verso altri compagni. Allargo il raggio dello sguardo e dell'azione. Quattro battute per creare più relazione con gli altri. Movimento, vi avverto, è molto veloce. Un passaggio più lente e un passaggio più veloce, ve lo abbatto io. Il movimento, adesso, è verso la posizione di partenza della catena di montaggio. Qual è la posizione di partenza? Dove siete nello spazio? È la vostra posizione di partenza della macchina. Mettetevi in posizione di partenza. Non in posto della schiacciola. Voi avete una partenza per la catena di montaggio. La vostra posizione è di base. Bravi, abbiamo capito. Adesso facciamo, per finire, le prove tecniche di meccanicità. Cioè, quando il ferro inizia a sentirsi nel vostro corpo. L'anima di ferro del vostro corpo. Elena, le mani, la pancia, la schiena, il collo. Eccola, è arrivata tra noi. Prove di meccanicità. Di meccanicità. Tutti da fine. Siamo pronti? State e sprematemi un secondo. Grazie. Pronti? Sappiamo cosa fare. Allora, il primo che si sente scopre la corsa e nell'arco di molto tempo, molto poco tempo, chiamiamo tutti quanti con noi e ci facciamo una bella corsa, bella liberatoria, ma di ottima qualità, altrimenti siamo 10 minuti a correre. Quindi, tutti pronti? Pronti? Marcellino, sono tre giorni che si sta e qualcuno ti verrà a prendere. Siete? No. Jacopo? Cristiano? Roberta? Valentina? Cristiano? Roberta? State? Il primo che si è la sente, parta. Un po' di più. Il primo che si è la mente. Questo è il mio terzo, vai. C'è un problema pesante. Provate a studiare, studiate, per quanto risulta, per quanto risulta, per quanto risulta, per quanto risulta. Occhio. Occhio. Questa parte santa è la sua. Più leggera, più leggera. Più veloce, più leggera. Lascio che stai chiamando, vai. Piano, occhio alla pretenza. Il più. Non è giorno, ragazzi, non è. Sport. Piano, c'è, forza. Vitate, chiamate. Mi viene chiamato silico. Mi viene chiamato stopio che verrà chiamato quando lui arriverà. L'ultimo darà l'inizio. Alla scena. Pronto. Non è valiente, che si fa un banco di pesce. Forza. Andiamo, andiamo. Ssh. E' un po' veloce. Più. 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 Passatemi da 15. Tanto se ti senti insieme, gli ultimi stanno spingendo. Più, 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 fidate che non vede trascinato. Quindi voi dovete trascinare, piano, piano, più leggero, non vi accalcate tutti intorno a uno, è un unico movimento, se vi fermate, non siete riconvincendo, non avete la forza, per lo tanto di voi, correte veramente, se perdete la forza correte veramente, qualità, altrimenti non sono le scelte, più silenzio, più straccio. Non vi accalcate, 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 se sentite che state creando un'attualità, basso, piano, Sì, non vi accalcate, non vi accalcate, facciamo, viene ancora un po' di video, non vi accalcate, sia sentite, linea, insieme, понравi, sentite, sc divisione, ora, se il suo्o e uno mi cercherò cosa succedendo dentro, lascialebbio affascinare, so preghetti! che ha andato da una parte, che ha delle cose da fare. C'è il motore per te, rossa, che correre mi fa bene, non si tratta di vivere. Piano, spirale, munico, si tratta, rossa, 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 rossa. Ssh, non s'è la massiva in giro, ma stesso tempo a morire, ma fungerli insieme, insieme, bene, ah, ssh, vai, il tempo delله, di più, di più, di più, di più, risp reci��, di più, correte, correte. Grazie a tutti. Troppo rumore, signori, troppo rumore. L'avete già fatto? C'era molto meno rumore. In più, vediamo la porta. Avete mille piedi che sono per voi, non sono i vostri. Forza. Pronti? State, state pronti per colpo di macchera. Ora, sto guardando una persona, la indica un'altra. Ora! Subito! Correre da una parte, non un centimensione esternamente. Piano, non c'è seguitante. Piano, pilone, è di 30 kg. Come fai a fare il suo percorso? Piano. Piano, piano, piano. Stop! Migliorare gli stop. Dovete avere il controllo, altrimenti vi fate male. Attenzione, colpo di macchera! Attenzione, colpo di macchera! No! Corre! Leggeri, 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 leggeri... Stop! State, state, colpo di macchera! Colpo di macchera! Recuperate, 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 giù col braccio. Ricuperate, giù col braccio. Lo state, cercate un'altra persona per indicare. Ora! Colpo di macchera! Indicate, ora! Colpo di macchera! Colpo di macchera! Colpo di macchera! Indicate, ora! Di più, tendete, tendete, l'avete trovato, l'avete trovato, l'avete trovato. A chi lo state indicando? Di più, più tensione sul braccio. Una diagonale per il disfacchere del corpo e... Corso! Stop! Colpo di macchera! Colpo di macchera! Colpo di macchera! Colpo di macchera! Indicate la nuova persona! Chiudeci, chi dice la verità, l'avete trovato? Chi è? Disperazione del fatto che nessuno si sta guardando, non vi siete trovati, voi lo sapete, dovete dirlo. E chi sta guardando, sta guardando qualcun altro. Chi è? Più convinto, più convinto. Tendete, 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 c'è ancora una zona del nostro corpo che lo sta indicando? Di più, di più cosa? Colpo di macchera! Colpo di macchera! Indicare! Colpo di macchera! Colpo di macchera! Indicare! Di più, Nicola! Di più! Di più! Colpo di macchera! Di più! Colpo di macchera! Indicare! Colpo di macchera! Indicare! Sciogliere, grazie! Invece di più, grande, grande! Respiriamo, ci riprendiamo un po', andiamo corso tanto, andiamo corso tanto. Cominciate a copiare tutto quello che faccio, anche le espressioni del viso, come muovo i piedi, come muovo le mani, come muovo i capelli, tutto. Respiriamo basso, così ci riprendiamo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Spanne, le mani, le dita, i piedi, il bacino. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Spanne, cercate di copiare l'accompagno di te di fronte. Siamo in cerchio e ci possiamo vedere tutti. Grazie a tutti! 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 Mi faccio prendere un altroitto al cuore! Valeria fate i micropassi, non ne fate più grandi Vira Marcellone Morbidissimo questo gesto Marcello Come lo posso irrigidire questo movimento? Bravo Guida Noa Se non la vediamo possiamo dare compagni accanto Stai parmai a noi non ci spavent Stai parmai a noi non ci spavent Stai parmai a noi non ci spaventiamo 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 wissen Adesso facciamo dei bei fabbis alzando le ginocchia. Un, due, tre. Un, due, tre. Adesso con le mani, quando alziamo le ginocchia andiamo a prendere tutto e ci solleviamo il più possibile. Chi non può farlo si mette di lato, chi è sentito dolore si mette di lato. Un, due, tre. Ancora. Un, due, tre. Ok, sento saltare. Morto, 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 morto. Gianche, timonia. Piano piano accessare. E scompare del tutto. Ispiro, non mi aggiusto. L'ho sempre concentrato. Quando batto le mani, prendete una posizione, una figura espressiva forte. Quell'esercizio che già abbiamo fatto insieme a tenetà. Quando batto le mani, prendiamo una forma qualsiasi. Ok? E poi quando ribatto la mano, ritornate a neutrare. Ok? Ok? Spino. Spino. Solta il lato di nuovo. Solta il lato di valentina. Solta il lato di giù. Cambiate sempre la posizione. Adesso ne ho tratti. Ok, accanto. Non mi rispondere. Ne ho tratti, adesso rossetto. Quando batto le mani, una posizione delle conchie. Scioglie. Una posizione delle conchie. Scioglie. Una posizione drammatica. Scioglie. Dramatica. Scioglie. Una posizione. Alla cerchia. Scioglie. Adesso, in questa condizione. Lentamente. Prima sentite, quando ho finito, eseguite. Lentamente andate tutti verso il centro. Però senza stare attaccati tra di voi. Dovete stare vicini. E provere anche dello spazio tra di voi. Quindi non vi attaccate. Non vi mettete pelle contro pelle. Piede contro piede. Dovete stare più vicini, semplicemente. Ok. Verso il centro. Verso il centro. In questa situazione di concentrazione. guardando sempre qua. Marcello è troppo schiacciato. Marcello è troppo schiacciato. Marilio stai schiacciando troppo. Dovete avere lo spazio per poter mettere le mani così. Mani giù. Mani giù. Mani giù. Mani giù insieme. Respiriamo insieme, quando respirate si confiano tutti i polmoni, guardate un punto fisso, fate anche un sorriso, vedete gli occhi, sentite un po' come stanno le vostre mani e mettetele una di fronte all'altra, non tese ma presente. Non troppo attaccare l'una o l'altra, riserva, respirate, sentite il centro del palmo delle vostre mani, sentite se c'è del calore che emanano le vostre mani, sentite se c'è qualcosa tra le vostre mani, non sono tese ma presenti. Natalia, testa avanti, non mi piglia, non sono tese Natalia, sono presente, sono vive ma non tese, sentite cosa c'è in mezzo, se è qualcosa di denso, se è un'aria qualcosa, se avvicinandole eccessivamente si sposta, forse sembra una calamita, ma se poi le avvicinate e poi provate a allontanare, provate a farle vibrare, sentite cosa c'è, la cosa importante è proprio capire e sorprendersi di quello che avviene dalle mani, se avviene qualcosa. Grazie. 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 no, due file, due file da una nuviziona, nessuno ha perso niente per terra, quindi non c'è più bisogno di camminare guardando per terra, due file belle e spaziose, anzi queste due file vanno fatte con un compagno dell'altra fila che deve stare tra due persone, quindi spazzate, una fila rispetto all'altra, spazzate, le mani nelle transizioni non sono mai qua, perché il sesso è protetto, state tranquilli, non ve lo tocca nessuno, quindi mani lungo i fianchi, non avete perso niente, questo è un affestamento, in mezzo a voi ti passa, una persona deve passare in mezzo, ok, velocemente, velocemente, tra Marcello e Marcello, chi passa, tira in molla, velocemente, non passa, vedete? Organizzate la fila, ok, c'è un filo che mi viene, dove sta questo filo? Ve lo mostrate con le dita? Ecco, tiratelo, in modo che state dritti, bello questo filo tirato, e adesso vediamo che questo filo che è tirato, lasciate sul braccio, viene tagliato, e crolla tutto, ok, crolla tutto, non sono goppo, sono crollato su una linea, ok, sono sempre su quella linea, ma è crollata, è stata tagliata, quindi, casca preso morto, i piedi non sono uniti, mai, mai, nessuno degli esercizi sono uniti i piedi, non sono neanche a papera, non sono neanche in seconda, sono paralleli, cioè, mezzo piedi in mezzo, e sono crollato, anche la faccia è crollata, e ritiro sul filo, ok, ora, crollano le ginocchia, poi crolla il culo, poi mi lancio con la pancia, pum, poi mi lancio con le spalle, indietro, pum, poi mi lancio con la testa in avanti, ecco qua, ah, vedete i piedini sotto, ok, 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 e ritiro sul filo, a questo punto comincio a mettere questo filo morbido, come se fosse come americana, da una parte e dall'altra, è posto in peso, e anche la faccia è morbida, e carezzo tutto, carezzo tutto, carezzo l'aria, e sono sciolto, la faccia è sciolta, eh, ma non ti fa, è mastico, mastico, morbido, 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 ritiro sul filo, ok, ho ritirato sul filo, a questo punto il filo si tende un pochino, eccomi qua, bello, tirato su, guardavano, con un sorriso, il filo ha tirato anche il viso, sì, lo ha tirato in un sorriso, e cammino quasi sull'agio, sono leggerissimo, non faccio nessun rumore, cammino come su un tapiruano, sentite i piedi quanto sono leggeri, e sorridenti, sorridenti, fermi, dove andate, non è ancora il momento, adesso questo filo lo tiro ancora di più, e comincio a sentire un formicolio, perché il filo ha sempre la stessa grandezza, quindi tirandolo, il corpo si rigidisce un pochino, si rigidisce, si rigidisce, e a questo punto la corda è completamente tesa, completamente tesa, completamente tesa, completamente tesa, e tutto, siete un monoblocco, siete un monoblocco, siete un monoblocco, e a questo punto, questa fila torna il filo normale, questa fila torna il filo normale, al mio clan, partite, scegliete uno di questi stati, l'ubriaco, il bambino, il ganso, il flaner, il nervoso e il nevrotico, e iniziate a camminare verso l'altro, quando vi incrocerete con il vostro compagno, dovete prendere la camminata che sta facendo lui, se è la stessa, continuate, nell'incrocio col compagno, cambiate il vostro stato fisico, partiamo, pronti, via! Giratevi, al mio clan, incrocio di nuovo, quando incontro il compagno in quel momento, transizione, divento l'altro, vai! e ora per tutti, filo tenuto, filo tenuto, zappi, provate ad andare dall'altro, no, non camminate, siete ubriati, è una questione di perdita di peso, corda al massimo tesa, tesa, cammino! sempre mantenendo le stesse distanze, e adesso, ganso, ganso, e cammino verso l'altro, ganso, ah, carezzate l'aria morbidamente, 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 corda tirata, tirata, tirata! grazie a tutti! grazie a tutti! grazie a tutti! Grazie Daniela, grazie Alessandra, grazie Elisa, che ero suo questa sera. Il gatto è Lorenzo! Io? Io? Melenia devi fare di tutto per non farmi prendere, eh? Io? Occhio controllo! Io? Occhio controllo, sul filtro non si può venire. Io? 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 ci sono degli smargiassoni io Armando smargiassi qualcuno becchia Armando io non vale il gatto sonnacchioso io controllo controllo non farsi male controllo io Luisa non ti nasconda io controllo controllo sempre io Ali tutto a posto io attesci al quale ok io 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 e che veda Luisa vedi ma assamana là io io Tony vedi c'è che vedi un po' di miele non scuro che si doveva una piacca ma 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 se ci fosse anche una pasta da ciughe sarebbe il top io io controllo controllo attenzione 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 ok ok spazio la velocità 5 siamo sempre uguali con la stessa mentalità vi voglio che si sorrisi iniziare a piangere di questa camminata è chiaro mi piangerai mi piangerai mi piangerai inizia vieni 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 ok ci guardiamo tutti guardiamo il rumore sempre ormai il livello di rumore è salito notevolmente siete diventati bravi a farlo e infatti ho vinto subito la classica c'è una roba qui c'ha fatto un piccino vicenda via vai a vedere la palla ok è preciso dai controllo dove sono controllo la palla chi ce l'ha non deve passare delle ore prima di passare ok bisogna avere almeno quattro persone che lo guardano scusate mettere lo spazio eh se ci metti due ore vuol dire che non lo guarda nessuno vicino un'altra ovi che farà vedere qui è si comincia spazio no cerchi attraversiamo non deve cadere incredibile questo esercizio ok e non ci si crema un nostro esercizio si va si continua ad andare incontri adessato riscontri attenzione qui c'è un'altra eccomi fai vedere ricordo e tre palline andi cosa è successo spazio attraversare non cerchi rumore novi attraversa rovetta cosa è successo no stiamo per piangere se ce lo facciamo subito non ci pensiamo più non aree con tutti zirio non sai neanche dove son tre palline non sai neanche dove è una no, te lo dico io credimi, vai grazie, grazie grazie il miele mi mando il miele alla faccia l'alto lo vorreste, lo so ma me lo buffo solo io se non schifo il miele adesso, ero sicuro che non hai mai visto risposta grazie vediamo, invece c'è oggi una cosa che ti piace molto, melanzana e la parmigiana hai visto? c'è da sotto il tavolino pallina a lavorare ho anche una bottiglia di bocca sotto il tavolino li disiati di merda lavorare, lavorare buonissimo il rumore buonissimo il rumore continuare continuare e adesso con la stessa tensione con lo stesso rumore eccola qua la pallina che l'anni a cavallina andiamo? oh state andando a 5 eh non a 3 Marcello quello è 4 bravo quello è 5 è visto? è una campanella comune che il rumore ci riusciamo a fare senza problemi guardare non mi c'è neanche è la stessa cosa che prima non perdo tempo se ho 4 amici che mi guardano se sono da solo come uno stronzo la pallina non gira mai siete tutti vicino alla pallina adesso fateci calco no? lo spazio sempre ok questo è è di qualità questo comincia a essere di qualità ammazzo al 29esimo giorno continuo eh perché per compiere il culo per 29 giorni beh siete delle merda anche tu perché tu sei capo merda meno male che non potete rispondere se no mai voglio dire si è sempre sempre tutti specialmente dalle teste vuote capire ok ok eh Natalia questo è il tuo e pensa non è pieno 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 perché se no ti va a fare in tue no va a lasciare qua perché è tutto il genere con la sciocca non si fa a lasciare qua siamo rimasti in otto finissimo vai ma la nostra valentina faraoni regge il nostro mito Adesso è sempre più difficile Facciamo il solito Ce l'ho io, ce l'ho io Ce l'ho io, ce l'ho io Ce l'ho io E la passi Mauro Ok, ce l'ho io E facciamo il solito gioco Ovvero Uno Due Tre Al quarto Al quarto Maurilio Non al terzo Al quarto Ricevo così E lancio Ce l'ho io Al quarto Con calma Il rumore ormai non c'è più Non esiste più o meno Non è il rumore Manteniamo questa cosa Per cui Uno Due Tre Il quarto Riceve e lancia Ok, ce l'ho io Eccomi Che poi sono poi raggiunto No, ok Allora Contare Facciamo contare Dai Così calciamo anche le voci Maudi Grazie Ce l'ho io Conto Poi esco Uno Due Morte No Vai Ce l'ho io Ragazzi Dai Su Quello che dobbiamo fare Uno Due Tre Quattro Schiaccio E rimando Sono anche l'uno Ok Chiara Ecco La voce non l'ho sentita Chiara Ok Non mancate gli appuntamenti Su Ce l'ho io Uno Due Tre Due Due Bocci Quattro Uno Due Tre 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 La rinunzione della rinunzione Tre Quattro Uno Uno Tre Quattro La rinunzione è pizza Vai Quattro Uno Due Tre Quattro Un'antico cambio Ascoltate Stop Vai Vada Quindi Cambio Si passa Che c'è la pallida Sicola Chiamando il compagno Per cui Stiamo facendo Uno Due Tre Quattro Uno Due Tre Quattro Dico cambio E si passa Sulla rossetta No che rossetta Due Lui si chiama due rossetta Sveglia Sveglia E primavera Mi sto facendo Uno Due Tre Quattro Quando dico cambio Daniela E lei come si chiama Daniela Eh Aspetta Oh no A terra Dai Ok Spazio Il tumore Ok E qui stiamo Cominciamo con Uno, due, tre, quattro Lancio e non ci sono più Marcello No, no Dove guarda Ok Uno Due Non ci sono tante Vettino e non ci sono tanti Sta qua Comincio il Uno Due Tre Quattro Uno Due Tre Quattro Due Due Tre Quattro Due Due Tre Quattro Tre Quattro Cambio 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 Detesa No Non ci sono tanti Marcello Spazio Spazzina Ragazzi Stop I nomi dei compagni Vi sapete E la lavorate E lo comincia Pasqua E non ci sono più Guardate E sono io Che ho la pallina E voi fate più Che non ci sia Uno Passo E non ci sono più Uno Due Passo E mi cazzo Invece Adesso Eh Si va a casa Ora Ragazzi Ma proprio Adesso Eh E domani Non si sa Che cazzo faremo Voi pensate Che stia scherzando Rispondete Ah ecco Perché lo sapete Che cosa posso fare E allora sveglia Eh Ridiamo Se stiamo svegli Se lo stiamo svegli In un caso Ce l'ho io E comincio Uno Due Quattro Uno Due Tre Quattro Uno Due Tre Quattro Uno Due E Quattro Uno Due Non ti guardava E allora Non ti guardava Ma non ti guardava Sveglia 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 Non dovete Sveglia Non dovete Sveglia Se non ti guarda Eh non ci sono casi Sono io Uno Due Tre Quattro Uno Due Tre Quattro Uno Due Guardate Guardate Quattro Uno Due Tre Quattro Uno Due Due Tre Quattro Uno Due Tre Quattro Uno Due Tre Quattro Cambio Due Andiamo Valentina Valentina Alioscia Andiamo Alioscia Andiamo Alioscia No Faccio Faccio Buone Veloci Forza Alfredo Alfredo E' tutto a colpa di Alfredo Certo Se non foste divertenti sareste solo le merda Invece purtroppo siete anche divertenti Avanti C'è la Lioscia con i numeri Guardi Iniziamo No No Non è prima Stop Stop Non è che dico Noa E poi va Ok Cristiano Non vai regolarmente Tu dici Prima il nome Poi va Contemporaneo Cristiano Noa Esatto Camminare Ce l'ho io Uno Due Tre Quattro Uno Due Tre Spera Noa Qui Vai Tutti là Forza Lisa Se non ti diverti Vai a casa Voglio vedere il sorriso Te ne vai adesso E non sto scherzando Alza questo culo Forza Porco tu me Te la faccio passare oggi Te la faccio capire oggi Forza E' un gioco E poi lo devi divertire Ok Questa non può essere la fuga E allora faccio per finta Le regole sapete Vai ora Un due Tre Ce l'ho Alioscia Nicolchia Un due Tre Ce l'ho Ehi Chissi Questi vanno avanti Rossella Alioscia Però che ti si muove sempre questo Un due Tre Ce l'ho Roberta Daniela Un due Tre Ce l'ho Un due Un due Tre Ce l'ho Jacopo Lorenzo Chiara Un due Tre Ce l'ho Un due Tre Ce l'ho Luisa Marcello Mauro Se non mi ricordo che c'era Che aveva un sistema semplicissimo Tutti quelli che non abbiamo avanti Tipo Mauro Venta 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 Il qualsiasi Qua Sì Vuole arrivare Guarda Dove E la seguo io Non te lo preoccupare Un due Tre Sella 1, 2, 3, stella! 1, 2, 3, stella! Occhio al via regino! Si nasconde via per il via! Occhio al via regino! 1, 2, 3, stella! 1, 2, 3, stella! Silvio, io ho scelto il cazzo di rinone, che dice che il barra! Silenzio, votazione! Silvio Bara! Adesso, non è inizio! E salato! Silenzio, votazione! Silenzio, votazione! Silenzio, votazione! Ok, 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 lo spazio! quando mi giro quando arrivo a cinque bisogna distribuirsi camminare camminare si arriva anche qua non mordo forse perché io sono un po' santo e non mi ha fatto gnocchi in Francia non mi ci vogliono più a me ok, da cinque non botte, prego le distanze, allora i neri i neri, i grigiastri sono più i colorati sono segno o meno ricordo che chi non sa di fisica a parte i vari lamp che più e meno possono avvicinarsi in qualche modo possono stare vicini più e più no meno e meno no come se avvicinano se è scarsa la veneta come la consideriamo nera 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 sarebbe lechista ma diciamo che è nera ok, bravissimo sapete il gioco lì cosa c'è? un amore che è un amore allora e tutte le signore devono levarmi in dubbio mi si è stata lupata che lecchia infatti fa per tutti i seri e non ci salva dalla lecitudine vai allora i neri sono più i colorati sono meno per cui non posso stare vicino a un colorato se sono colorato e non posso stare vicino a un nero questo è un nero via da me sì e si piova non è che tra le ritroppare se c'è una meno che passa via corale no no anzi ok dopo la camita si va eh non c'è mamma mia signore se meno se andate in la cassa di dodicenni con gli ormoni a palla basta sì via abbassa le braccia a cielo mi preoccupa che sono quando si è sparsa la voce non c'è non c'è ragazzi a cielo no che ha l'amico ho detto ci si può avvicinare quando ci si può avvicinare non è che si sta a fiscicarci ok 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 no caraviglio si continua si incontra qualcuno a cui si può avvicinare bene il problema non è stare vicini madonna quando ho tempo che è mi sono disegliato ma schifo eccetta eccetta non devo che inizia la calamità dico che mi posso avvicinare a Luisa camminando qua non mi posso avvicinare qua mi posso avvicinare continuo non è calamità qua no qua mi posso avvicinare continuo non faccio calamità non faccio calamità Roberta Roberta non è calamità io come sempre la solita camminata solo se picco qualche ruolo che è come me che mi devo andare provate a cercare ok va bene adesso siamo a velocità 5 quando batto le mani assolutamente scelta personale qualcuno andrà a 6 qualcuno andrà a 4 Valeria regolati perché mi sa che sei già a 4 perfetto ok adesso si è a 5 siamo a 5 allora va a 3 mani un gruppo andrà a 6 un gruppo andrà a 4 ok un gruppo A è a 6 un gruppo B è a 4 batto le mani il gruppo A va a 7 il gruppo B va a 3 trovate i 7 insieme guardatevi i 3 non è che spariscono lo dico per i 7 il tavolo è 9 bello sguardo Marco bello sguardo non perde un ballo no alla bello sguardo grazie tu la manda Marco che a ballare sembra un cavallo il locale è costito un poca gente guarda sapete cosa fare diceva che campione fai tu una 8 e questo è José Marigliano non so 6-2 8 questo sarebbe A3 adesso A3 è 2 se si è nel gruppo B è 2 ok trovare il 2 comune l'8 c'è il 2 comune no guardateli in giro Armando guardate in terra come fai a vedere il 2 comune ok adesso A fa 9 e B fa 1 non è corsa 9 è Chiara corsa è 10 per cui trova questa 9 Chiara guarda Nunzia quello è 9 ecco qui Nunzia ok Nunzia è aperta 9 giusto è aperta giusto è rossella ok giusto Mauro adesso gruppo A passa a 10 gruppo B passa a 0 giù 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 non giochi non giochi come dice non giochi ricambio pulminio che è a 10 passa a 10 che è a 10 passa a 10 ha ricambio pulminio da 10 a 0 controllo non scontri ok adesso chi è a 10 passa a 9 chi è a 0 passa a 1 esatto questo è il 9 giusto Chiara questo è il 9 sapete cosa fare provate bene quest'8 non possiamo fare sacrifici non fa male guarda giustata pensa sapete cosa fare 7 3 questo è 1 maurito avevamo già a 2 7 3 provate bene questo 3 ragazzi bisogna essere specifici anche nelle quelle lette 7 3 ok adesso andiamo a 6 4 state per trovarli insieme c'è poca differenza tra 6 e 4 siete più precisi non so se quello se è mettere la lette così vai è così sicuro se è 3 trova sto 4 il 4 trovi noi 4 guardatevi 6 4 adesso di nuovo tutti insieme questo è 3 vale adesso siamo tutti a 5 adesso più di dopo non stop che ora la partenza è vostra e andate subito a 5 quando volete e vi fate trascinare ok e adesso la stessa sequenza di prima ovvero quando decidete voi un gruppo avrà 6 e un gruppo a 4 poi 7 3 vi voglio venire tutti poi 8 2 9 1 10 0 poi chi era 10 va 0 chi era 0 va 10 poi si ricambia di nuovo chi era 0 va 10 chi era 10 va 0 e poi si scala 9 1 8 2 7 3 6 4 5 5 e lo stop in comune non ve la mischiate lo dovete fare bene tutto siete in movimento tutti a 5 quando volete qualcuno è già a 4 per cui il primo scatto è stato fatto finché non si è raggiunto non si cambia eh Cristiano si capisce dove sei tu con cui lo sei guarda ok adesso capisco ci siamo specifici specialmente nei numeri molto alti o molto bassi l'8 è una cosa il 9 è un'altra il 10 è un'altra ancora unischiato il 9 con 10 guarda su Roberto Armando tu non sei con gli altri aumenta un po' ora si non sei con gli altri Grazie a tutti. 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 Un attimo. Grazie a tutti. 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 e non ci si guardiamo. Grazie a tutti. 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 intanto quando ve la sentite vi fate fare un metro per sentire una cosa come la sentite? come questo? come questo? Silvio? come? sei mancino? vai Silvio è lei non la c'è ti stacco la testa Silvio te la stacco vai a casa adesso Silvio lo sai che faccio lavora c'hai lei da portare e guarda l'altro è adesso che dovete essere concentrati è adesso che dovete fare un servizio con i vostri compagni se lo fate ai vostri compagni lo farete a voi non si è nato non si è nato non si è nato poi è così il üst Burada con i vostri compagni lo after mentre passiamo a tutti i vostri compagni lo torture sono disblocado star Grazie a tutti. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ci abbiamo un 10 e un 9, da Jacopo verso Valentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allora, per adesso così, il 9, e Lorenzo qua. ok allora mettiamolo al centro e attiviamolo attiviamolo dai attiviamolo e poi sapete cosa fare non sono difficili svegliando non solo pacchette le pacchette sono un'altra cosa non sono più niente non è neanche il massaggio è sveglia sveglia sono tre cose diverse questa è la sveglia ok sapete nelle mani cosa fare e sapete come lavorare per fare l'unica ok un minuto e via non è che ci siamo un'oretta guardatevi non deve essere sbagliato guardatevi tra di voi lo dovete inclinare all'indietro lo sapete perfetto allargare le gambe nelle gambe c'è bisogno solo di una mano qua ok c'è Natalia se la tirate su Natalia non arriva da nessuna parte allargate queste gambe c'è bisogno solo di una persona lo sapete qua e una mano sopra perfetto qui al garretto esatto la testa giusto perfetto e un attimo di buro eh ci raccontiamo la giratina e andiamo sappiamo come lo dobbiamo appoggiare con che certezza occhio a quella testa Silvio cioè il mento troppo in avanti vai ok ok un attimo guardate mettete a posto non è mi rilasso e me ne vado adesso ma una cosa di energetica e via capo su energetico ma non doloroso ok dai sapete i piedi sapete le mani la mano non può essere quella mano lavorate la lui che ne ha bisogno a quel braccio su scioglietelo ormai ne sapete le cose i vostri compagni lavorateci voi perché ci devo lavorare sempre io ok un minuto guardateli fra di voi prima di tirare su poi ricordateli lui si appogge indietro e su fatevi raccomare sempre e andare su e allargati di queste gambe se no non serve ragazzi se siete più bravi è un gruppo di piccoletti allora Silvio dovrebbe essere più bravi e scambiatevi i posti ve l'ho detto mille volte quella posizione giusta è quella di Roberto questa girata in là annunzia come faccio a vedere cosa fa il gruppo si sono di spalle cristiano così lavori da solo ok lo poggiamo e ricordatevi l'alzate e diamo di questa sensazione che se ne va su lo possiamo fare solo se siamo specifici su dai abbiate coscienza degli altri due gruppi dai scusi la sala è chiusa può uscire per favore prego prego è chiuso questo laboratorio vada chi l'ha fatta entrare questo ah beh non è andato è andato se mi ha detto che è chiuso è chiuso dai questo è caduto sulla terra via guarda dai chi se lo vuole fare il viaggio Valeria fateglielo fare come si deve prima va indietro non gli hai potuto alzare i gambe adesso è impossibile frittare cristiano sono con voi prima va indietro e poi adesso sulla eccola là eccola là ok adesso comincia ad essere un buon esercizio su quella testa bene se no non serve niente che se senta sei di wow perché lei volete andare in passiamo passiamo non saprà mai chi sono le mani passiamo anche dove di solito avemmo vergogna a passare su l'interno cosce il pube dai 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 tanto nessuno scoprirà chi sono le mani su ormai riconoscete non mi sballottare qua significa sì per lo sballottamento inizio giusta giusta è faticoso chiaro senti piccoletti e due grossi però quella qualità il braccio che se lo tiene lo faccio bene attenzione attenzione quella testa che ti viene piena Marcello non mi ricordo che si chiama la testa ok se non la fate la testa di Marcello piantata dai regni non serve niente anzi fa peggio fate quello che è riuscito a permettervi dai che è riuscito che è riuscito che è riuscito Grazie. 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 Grazie.